Rientriamo nel Cunese, a Bra, capitale del Roero, una nuova casa per 17.000 candidati donatori dell'Aido, inaugurata sabato a Palazzo Matis. Vediamo. 17.000 candidati donatori dell'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule hanno trovato una casa prestigiosa e funzionale. Situata nel pieno centro storico della città di Bra, sabato scorso è stato tagliato il nastro tricolore per la nuova sede dell'Aido, sezione provinciale di Cuneo e del gruppo comunale Nicoletta Gorna di Bra. Da tempo fortemente desiderata e voluta dal segretario nazionale massimo dirigente Aido sul Cunese Gianfranco Verniano, grazie alla disponibilità della giunta comunale capitanata dal sindaco e col sostegno del presidente Donatella Vigna, alla guida della fondazione CR Bra, ora fondazione CRC, unitamente al presidente della CR Bra, gruppo B per Francesco Guida, quello che era un sogno è diventato realtà. Presenta al momento dell'inaugurazione una folta platea di autorità e spettatori, in particolare l'intero asset dirigente Aido Piemonte, con alla guida il presidente regionale Walter Mione e tutti i gruppi comunali di cui è ricca la grande, per una sezione provinciale forte di una crescita esponenziale che dal 2012 ad oggi ha avuto un incremento in adesione di oltre 70 punti percentuali e che ora potrà, nella nuova sede di Palazzo Matis, dar custodia alle 17.000 manifestazioni di volontà, al dono una speranza di vita per i quasi 8.800 malati in vista d'attesa per un trapianto. È un onore per me e per tutta l'amministrazione che era convenuta qui con me, essere all'inaugurazione della sede comunale e provinciale Aido. È un onore perché, fatto in modo particolare nel periodo natalizio, dove si fa memoria di una nascita, qui parliamo dell'impegno di Aido quotidiano perché ci siano tante rinascite, tante possibilità di ulteriori progetti di vita. Ne approfitto anche per fare gli auguri a tutti quanti. Un grazie a tutti i responsabili Aido, ma soprattutto un augurio di buone feste, buon Natale e buon anno e soprattutto perché ognuno di noi abbia la possibilità di vivere un momento con i propri affetti per ricarburare verso impegni futuri. Mi preme fare un ringraziamento particolare all'emittente Telecupole, nella persona di Pier Maria Toselli, in quanto segue gli avvenimenti di Bra, da spazio e pertanto ci mette in mostra a livello territoriale e soprattutto so che è anche sensibile a questi avvenimenti. L'amministrazione comunale di Bra ha messo a disposizione un locale in una bellissima struttura, il palazzo storico della città di Bra, Palazzo Matis, dove si sarà una nuova sede che darà chiaramente l'ospitalità alle tante persone che credono nel dono, che credono nella sofferenza e che il loro impegno e la loro generosità daranno supporto ai malati in lista di attesa. Oggi in Italia 8.800 coloro che cercano e credono e hanno bisogno del trapianto, Aido lavora per loro e oggi con Bra si corona un sogno, la sezione provinciale di Cuneo e il gruppo comunale di Bra potrà godere di una nuova bella sede funzionale, efficiente e efficace. E questa è la nostra speranza e il nostro augurio per un Natale di festa e un 2020 di grandi successi. È una bella sede che abbiamo attrezzato e arredato nel modo per noi migliore per renderla un segno di vita, perché Aido vuole la vita. Vuole la vita nei suoi colori, nella sua interezza. Ci fa piacere vedere che un artista braidese ci ha affrescato la parete parlando di vita e parlando di come prosegue la vita. Grazie Francesca per quello che hai fatto per noi. Grazie. 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 Grazie.